Travestiti così non ci troverà mai Guarda quanti ce ne sono Quanti Luca ci sono No Luca non riuscirai a trovarci in mezzo a tutti gli altri Luca Non ce la farai mai No tu non sai riconoscere nulla Abbiamo il pollo come tutti quanti Non c'è nulla che ci distingua dai normali Luca Non ci troverai mai No assolutamente no Sono finito No non siamo da nessuna parte Ah 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 Chi è questo che corre? No come hai fatto a beccarmi Chi è questo che corre? No no non farlo Mannaggia ho già perso Oh davvero Che coincidenza Che peccato Quante uova Vi posso stannare con le uova Sì ma se ti intrappone la città Ah no sei uscito Porca miseria pensavo di fregarti perché eri intrappolato Non valgono le uova Sono folli dappertutto Dov'è? Dov'è? Chi è? Espi? Che c'è? Cosa succede? Dimmi Non pensare di poter diventare me senza che me ne accorgi No ma non ti preoccupare Non sono assolutamente lì Lo sapete che potete schiacciarlo il pollo? Come lo potete schiacciare? Come possiamo schiacciare il pollo? Prova prova Oddio L'ho fatto per sbaglio Non volevo Cosa fa questo? Niente Cosa fa mai? Di lancio Un po' di uova Luca E scappa Via 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 Ma guarda Ma non sei per niente nascosto Cosa vuole sto coso qua? Oh no mi sto picchiando C'è un Luca che mi sta picchiando Non è giusto Aiuto Aiuto Ho tirato le uova da quello sbagliato Dannazione Dannazione Non vale se mi accoppa lui Non vale Sono qui Sono qui Prendimi Qualcuno l'ha accopato Penso tutti i capi Luca io non sono stato Io non sono stato Oh no 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 E' passato troppo tempo Nessuno mi ha dato un indizio Diciamo che siamo Stiamo vicini a te Luca Ah 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 Non ho resistito Ma come non hai resistito? Dove è adulterio? Questo qua mi sembrava si muovesse dietro di me ma cosa dici no si muove dentro di qualcun altro se ne ha preso con te non ero nessuno di quelli la come hai fatto a mancarmi non è vero che ti sfuggo sempre sei tu che la cataratta luca come ha fatto a vedermi Sesto senso per i miei cloni No se devi prendere me prendi anche loro prendi anche loro Devi colpirli tutti se vuoi prendermi a quattro cuori e basta quattro cuori e basta non è giusto Meno di cinquattro secondi Ok dai adesso adesso non vado più in mezzo a tutti Non è che espi sei diventato un pollo adesso Potrebbe essere che sia diventato un pollo ma se sono un pollo vuol dire che faccio le uova Ho visto ho visto No 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 perché tanto comunque mancava dieci secondi Ti lasci alla giustizia No 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 e ora tocca a me Dannazione quanti cripto ci sono dai venite un po fuori voi due quale siete? Quale cripto siete? È una stanza così colorata perché non te la codi un po ti rivela? Lo so che è una bella stanza Forse non lo so Sono veramente ma sono molti di più dei luca come faccio a trovare adesso? Io mi sa che mi metto a suonare Cosa 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 ti metti a suonare C'è qualcosa di molto molto Ah che cosa chi è che ha rotto il criminale che ha rotto il pianoforte Aspetta però Sam o Luca Sam Luca Oh Luca Crypto Crypto Oh sì No 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 Vieni qua Vieni qua Ah chi mi picchia Dannazione Grazie Rischio Che rischio All'ultimo Aspetta però Sei sicuro di essere mimetizzato sei tu questo? No Tutti i croni sono molto dritti e questo è storto Io ho un colpetto Ah un colpetto glielo da Era lui Alle spalle E ho provato a salvarti E ho ruotato con quello che mi ha colpito le spalle Ma stavolta non ci sono cassato Dai Luca qualche indizio Questo è molto strano Ma come ha fatto a salire lì? Un crone Aridizio Tannazione Vieni qua Dico solo che ti sto prendendo un po' in giro e mi dispiace forse è troppo cattivo Cosa vuol dire che mi stai prendendo in giro? Aspetta forse ho subito capito Dove sei? Sei questo? Oh Dai 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 Non sono sicuro però forse ti sei fermato qui? No Sì Ah io però ho preso l'altro cripto Grande cripto Maledetti cloni mi hanno fatto Ma sentilo tu quello? Ti ho visto Vieni qua Non puoi prendere un giro Dai Luca Vado Pronti o no io sto arrivando Oh no 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 Luca Preparati chi sei? Chi sei? Salta un po' Questo Ok d'accordo Ok d'accordo È strettissimo qui ce ne sono sempre No ti preoccupare vedrai che ci troverai subito forse Sam dai non confonderti Siamo Siamo tutte Kira Siamo tutte Kira Tutti uguali Siamo Kira Abbiamo il pupazzo del Kripper Assolutamente Ma che bella acquetta calda che c'è qui Ma che bella acquetta calda Acquetta? Allora Allora Forse ci ha azzeccato Sam Basta allora Però questa è stata ferma Quindi Non lo so Vai Mi ha preso Attaccate Difendetemi Chi la Mi ha fatto Sgattato benissimo Perfetto Perfetto Dobbiamo usare un codice specifico Ok Ma non con i tuoi codici non funzionano mai Non so come usare il codice Ok ok te ne mando uno Quindi giallo come il sole Ma cattivo Come tempesta Cosa stai dicendo Ehi la Luca Non lo so No No Come lo Ho fatto poi rispogliato Allora volta Mannaggia Sam aveva capito il mio codice Ho capito il codice Quale codice Era il Pikachu Era il Pikachu No era il Pikachu Davvero Sei troppo lento Non posso usare un codice con te No non volevo attaccarle E ma mi sa che Mi sa che anche questa volta Deve che vale Oh Quanto sono potenti queste Kira Luca dove sei? Dove sei? Sto saltando Sto saltando Mi hai dato una botta Ma quella di fianco a me è la prima No davvero Si è scappato per un pelo Sam Siamo una di queste Kira Brava a colpire qualcuna Dai su Non è così difficile Bravo Sam Esattamente lei Entrambe sbagliate Prendetelo Prendetelo Che grande È riuscito a fare fuori entrambe Oh no Questo vuol dire Questo vuol dire Che siamo decisamente meno protetti Luca Indizietto piccolino Chiamo al centro Dell'attenzione Sam Certo Razzai Il centro Va bene Noi abbiamo detto Abbiamo dato l'indizio corretto Sam Un colpetto Sbagliato È la fine Sì Ti attacchiamo tutte quante Dai Su Prova Ci Sem 3 2 1 Ah 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 20 secondi Potrebbe essere Il primo round Ah 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 Ci mi ha dato colpo Che l'ha colpito Che l'ha colpito Qualcuno Manca pochi 10 secondi Luca partiamo Corri Prendilo Prendilo Oddio Ah Ah Starra qui No Ah Ah Non mi prenderai mai No Era un'invasione di ira È la tua fine Sam Abbiamo Cisato Anche a me Chira Newbini Dove mi siete nascosti No Non siamo dovresti Nessuna parte Semmi fai silenzio Non ci troverà mai Sicuramente in una di queste Baracuzze Secondo me Però non è giusto Ci ho trovati subito Oppure no Ma quale delle tante Quale dai colpecine una Scommetto che trovi quella sbagliata Quelli che sembrano più strani C'è sicuramente Oh no Oh no Oh no E la cosa brutta E adesso mi escondo con sé Ma è se non sta Riesce a star fermo Scusa voglio di un bagnetto Come voglio di un bagnetto No No Ma cosa Io vado via Io vado via 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 Infortunato che sei in acqua E qua Sem corri Sem dai Ciò puoi fare Ciò puoi fare Dentro la casa di terra Come ho fatto a pelle Aia Sembra Mi raccomando Stai fermo Inboscati a qualche parte Oh Oh sì Ho preso quelli sbagliati Ho preso quelli sbagliati Non è giusto Oh sì Mi piace Mi piace Grande Sem Adesso nasconditi Dove siete? Oh da nessuna parte Luca Dai un indizietto Buongiorno Eravamo vicino a te Almeno io ero vicino a te Post su Instagram Fatti un selfie E metterlo su Instagram Ma smittila Non è vero Non mi troveresti lo stesso Dobbiamo tornare sulla barchetta Dobbiamo tornare sulla barchetta Ok È lontano È lontano Non ci vedrà mai Ok Basta adesso Fermo Ok Luca Vai dall'altra parte Mi sto dimenticando Di tenere la terra in mano Per un attimo Ma non muoverti Sem Non mi sto muovendo Ci farà scoprire Tutti e due Dai datemi dei consigli buoni Non è possibile Diciamo che Potremmo essere Ritornati a essere marinai Forza Non è possibile Ma sem 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 Vi sali Veloce Arrivo Arrivo Sali Scappiamo Scappiamo In barca Vai 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 Adesso vi prendo Cioè volevo dire Vai Sam Mi confondo No Via Via Scappa Come si Come si Ma cos'è Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Non ci prenderà mai Sam Se dove sono io Ti ha chiuso la porta Qualcuno qua dentro Nessuno ha chiuso la porta No Nessuno esce di qua No No Fammi uscire per favore Luca Fammi uscire per favore Luca Fammi uscire Via Via Vieni qua Lo sapevo No Assolutamente Grazie Avrei venutato a superare l'acqua Espi Espi No Il servizio Dove sei Non ti posso No Ho preso uno Ma l'altro Potrebbe essere su qualsiasi Sarca Ciao ciao Luca E se ma vinto Ma dai ma ci sono troppi espi Giova che come faccio a trovarvi Ma non tutti gli espi sono uguali Eh l'ho capito Ma anche questo si muove Neanche te stesso puoi riconoscere Aspetta tu ti muovi in maniera strana Ma basta che cerchi quello più tonto di tutti Ed è chi E se non sei tu sicuramente Ho visto qualcuno muoversi in maniera Ma sono tutti così perfetti questi Ho sentito mangiare Ho sentito mangiare qualcuno E qualcuno senza biscotto Vieni qua No Vieni Dannazione Come hai fatto a scappare So che sei uno di questi Io quasi quasi mi tuffo Risto la vita per colpi Ah Oh Se Grazie se mi distrailo Distrailo Se questo No No Sono sbagliati Non ci vedo Peccati lì No Lasciatemi in pace Dovete essere da mia parte voi Dovete Secondo me c'è qualcuno da queste parti Quello sul tavolo Sono io quello sul tavolo Sì Quello con la spada Quello con la spada Dai lanciatemi in pace Adesso vado a cercare Secondo me Luca è lì vicino al tavolo Ma se ma da queste parti Voglio provare a beccare anche lui Allora c'è pure un pollo Fatemi dare un'occhiata da qui in alto Questo è Troppo Troppo strano Troppo Vieni qua Sem Non puoi scappare Non puoi scappare No Aia No No Un espo Mi vuole prendere Non provare a nasconderti Sam So esattamente dove sei Sam Gira No No Volevo darti un'ultima chance Di scappare Sem Mi stanno colpendo No No Dobbiamo collaborare così È perfetto Ciao amico pollo Come va amico pollo Io sto Annusando i fiori Come aspetta aspetta qualcuno è vicino a un pollo Che cosa molto strana E qualcuno si sta perdendo qui dentro Volevo prendere un biscotto Cattivo No I biscotti sono tutti miei Anzi Quasi quasi ne approfitto E me ne prendo uno Vai un po' a vedere la tua dispensa Espi Vai a vedere Vai a vedere È tutta vuota Tannazione È tutta vuota Il ladro di biscotti Bravoluzione Bravoluzione Sicuramente uno di questi Sei tu Sei tu Sei tu Per caso Sei tu Sì Ti ho preso Non ci credo No Stanno prendendo me Oh che bel caldino Qui Sam non ci troverà mai Siamo Un altro Sam si mette in mezzo Mi ha turno adesso Sam siamo te praticamente Siete pronti Siamo prontissimi Siamo dei bravi cagnolini Facciamo E così Bravi ragazzi Siete tutti uguali Assolutamente Non ci troverai mai E tutte queste ossa per terra Che voglia No Non devo distrarmi Non devo distrarmi Ma dai ma son Non fare Non fare il cane Sam Hai ben altro A cui dedicarti Luca tu quale sei Fammi capire Io sono un cane Grazie Il miglior suggerimento di sempre Hai la medaglietta È molto strano Un cane su due gambe Ok Missione completata Come missione completata Ti ho perso No tranquillo Sono in un posto Molto molto Tattico E questo qui Che ci faccio Mi sa che è un fuggitivo Sam Prendilo Non posso neanche colpirlo È protetto Ah no No mi ha trovato Dannazione No 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 Che bevi lì Con l'acqua Via 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 Lezione Tu invece perché ti sei mossa All'ultimo No lo so Ti ho trovato Luca Corri Torna qui Io devo recuperare un po' di vita Fermati Fermati Luca Così non ti trova più Sicuramente Sì fermati Fermati Qualcuno ti ha morso Semma mi spiace Tu non sai assolutamente Quale sono io E qual è Luca Non sai quante volte Direi che possiamo fare un banchetto Un banchetto D'accordo Trova un osso Io trovo l'altro No Non sono mia Ma cosa dici Mi ha preso Ne ho una Anch'io ne ho una Aspetta Ottimo Ottimo Non si ci ha visto Non girare così la visuale Che si capisce Che sei tu Sì tranquillo Tranquillo Vedete tutte cose identiche Valizio Oh Oh Ehi là Ah Oh Oh Luca l'ho preso Come ho fatto Ho preso Luca Non ci credo Luca perché Lo sto sudando un sacco Io nel frattempo Perché fa caldo Da queste parti Le mancano Solo per quello Sto sudando Oddio Santo No E così Mi sta avvicinando Sempre di più Ok Forse Anche se ormai mancherò Uno spintone Non se ne è nemmeno Rese molto Undici Dieci Nove Sam Guarda che ha il tuo osso Vieni qua Ma è già lì che prende Che prende a botte qualcun altro Sono questo Sono questo Sono questo E vabbè Mi sa che È game over Quindi gente Questa ora Non uccidere lo youtuber Sbagliato In compagnia di Luca E di Sam Oggi Ci siamo Peccati a vicenda E vorremmo sapere da voi Con un commento Chi secondo voi È il vincitore Di questa sfida Quindi Vi diamo appuntamento Alla prossima volta E commentate in tantissimi Ciao Ciao Ciao